Ormai nella città di Taranto non ci sono più limiti, si è deciso a tutti i livelli di spennare i cittadini. Mi riferisco all'amministrazione Melucci, a Chima Mobilità Amat perché, come saprete, i parcheggi a pagamento ci saranno persino in alcuni festivi del periodo natalizio e nelle domeniche, precisamente 4 dicembre, 11 dicembre, 18 dicembre come domeniche, poi ancora l'immacolata 8 dicembre e a gennaio 2023, per non farci mancare niente, l'epifania e domenica 8. Significa davvero mettere sull'astrico una città che già è sofferente dal punto di vista economico e non solo. Scusate, ma per quale ragione un cittadino deve pagare il parcheggio persino quei giorni, persino l'otto, l'immacolata, in un festivo, persino l'epifania? Ma vi rendete conto? Melucci! Melucci! Presidente Spalluto! Ma cosa pensate? Che stiamo a Monte Carlo, a Las Vegas, i tarantini puzzano di fame e voi che fate? Anziché andare incontro alle loro esigenze, voi li spennate perché noi non siamo polli da spennare, mettetevelo in testa. E' assurda una cosa del genere, assurda! Ma qual è la ragione se non quella di fare cassa a tutti i costi? E' il grande Mattia Giorno, l'assessore alla mobilità sostenibile, il subcommissario del PD, l'uomo che si dice vicino al popolo, alle categorie più fragili, più deboli. Cosa dice a queste categorie? Che dovete calarvi in sacca e pagare? E' Mattia Giorno, com'è bello fare il radical chic, caro Mattia Giorno, a parole tutti fanno i sinistrorsi e poi all'atto pratico vi spremono come limoni. E poi mi metto anche nei panni degli ausiliari della sosta, poveretti hanno anche loro diritto a stare la domenica, a stare dell'immacolata, dell'epifania, a stare con le loro famiglie. Invece no, devono stare per strada. Assurdo! E' assurdo quando il loro contratto peraltro prevede da lunedì al sabato. Ma al di là di questo, poi c'è un altro aspetto che proprio non mi dà pace. Le persone che hanno fatto l'abbonamento mensile, quindi io faccio l'abbonamento mensile, questo abbonamento non vale per queste giornate che vi ho indicato. Quindi dovranno pagare a parte, mettetevi nei panni per esempio di un commesso che già prende quattro soldi, perché la media dei commessi a Taranto è 600-800 euro, non di più. E dimostratemi il contrario se non è vero. E quindi questi poveretti che cosa dovranno fare? Se stanno dalla mattina alla sera dovranno pagare ogni giorno, praticamente ininterrottamente, ininterrottamente, dalle 9 del mattino, dalle 8 e mezza alle 9 del mattino fino alle 20. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Ma stiamo dando i numeri? Quindi questa è Taranto, questa è la Taranto che vi meritate purtroppo, cari cittadini, perché la maggior parte ha rivotato Melucci. E questi sono i risultati. Ma il cittadino quando viene colpito al portafoglio mette il sentimento, come si suol dire. Ecco le favole di Melucci. Caro Spalluto, tu che fai l'uomo di sinistra, fai il socialista, fai l'uomo vicino al popolo, quale vicino al popolo? Tu ti sei messo sull'attenti dinnanzi a Melucci e sei costretto a dire signor sì? Perché con Melucci non si scherza, se tu vai fuori binario vieni immediatamente rimosso dall'incarico. E allora il buon Spalluto, Alfredo ti voglio bene, sei anche costretto tu a dire signor sì. Questa è Taranto che vi piaccia o no. Da Taranto è tutto. Blu, le mille strisce blu.